Sono quelle parole che una mamma colpita da qualcosa che è inimmaginabile ha detto alle sue due bimbe dicendogli sì sì papà è qui con noi però ci guarda dal cielo, qualcosa che mi ha sconvolto. Nonostante lo strazio immenso ha scelto parole dolci per dare alle figlie l'annuncio peggiore della loro vita. Il loro papà era stato ritrovato morto. È chiusa nel dolore la famiglia di Adriano Scandellari, l'ingegnere di Ponte San Nicolò, vittima dell'esplosione della centrale idroelettrica di Suviana. A riportare il dolore composto e dignitoso di questa famiglia è il sindaco Martino Schiavon che era presente al momento dell'identificazione del corpo del 57enne Padovano. Sono parole che ho sentito ieri e me le sono così fissate in mente. e sentirla dire sì lunedì mattina mi dice ti saluto poco perché tanto domani sera arrivo e purtroppo domani sera non è arrivata e quindi pensare che magari non gli ha dato quel bacio in più che di solito dai è qualcosa di indescrivibile. Dico sempre, no dico sempre, ho detto insomma è qualcosa di disumano anche se è una parola grande. Il corpo di Adriano Scandellari è stato ritrovato in un tunnel tra il nono e l'ottavo piano. Forse stava cercando di scappare dopo l'esplosione ma è stato schiacciato dal cedimento del solaio ed è stato spinto al piano di sotto. Dei quattro operai dispersi trovati morti, due infatti sono stati proiettati verso il basso, gli altri invece erano già al nono piano nelle loro postazioni di lavoro. Sono questi i primi dati emersi dopo i ritrovamenti dei vigili del fuoco. All'origine dell'ennesima strage sul lavoro ci potrebbe essere un problema all'alternatore che potrebbe essersi sbilanciato rompendo i cuscinetti, l'unico punto di tutta la centrale in cui c'è l'olio. L'ipotesi è stata avanzata da Giovanni Toffolo che fino a due anni fa era commissioning manager del team Enel Green Power. Ma a Ponte San Nicolò è il giorno del dolore. La salma di Adriano Scandellari all'obitorio di Bologna, la procura dopo le prime ispezioni sui corpi, ha deciso di non disporre l'autopsia. Il sindaco sta pensando al lutto cittadino per il giorno dei funerali. Nostra volontà è eventualmente fare un lutto cittadino qui per Ponte San Nicolò. Non sappiamo ancora quando saranno, non sappiamo come saranno, perché non so se ci consentiranno di farlo singolarmente oppure tutti assieme.